Ci auguriamo che si fermino le bombe, si fermi la guerra, c'è un dato anche economico molto importante perché imprese ceramiche già da oggi, in questi giorni, alcune fermeranno probabilmente la produzione per la mancanza di materie prime o i costi troppi elevati delle stesse, delle energie e così anche altri settori, anche se, ho sempre detto, non c'è un punto di pil che valga la lotta per la libertà, per la pace e per la democrazia. Grazie